Questa sera abbiamo affrontato il Valkor di Soresina, devo dire una bella squadra molto esperta, abbiamo inciso da subito il primo set, loro molto probabilmente sono entrati un po' molli, tant'è che il loro allenatore ha chiamato subito Tamat per riprendere un attimo e farle reagire, ma nonostante ciò noi sui primi punti siamo andati via, mi sembra anche di sei punti, poi loro pian piano durante il set hanno cercato di recuperare, ma noi siamo stati bravi a tenere sotto pressione e giocarci alla pari su difesa e controattacco, molte palle con attacchi incisivi. Siamo riusciti a portarlo a casa a 22. Il secondo set purtroppo loro hanno mantenuto le caratteristiche di difesa e controattacco, mentre noi su quel fondamentale lì siamo calati nettamente perché comunque ci sentivamo difendere e quindi siamo andati molto in crisi sul voler mettere a terra la palla e quindi abbiamo anche commesso parecchi errori e abbiamo perso malamente a 14. Il terzo set è stato un set giocato anche abbastanza alla pari perché abbiamo recuperato un po' di fiducia e devo dire che anche loro hanno commesso qualche errore in più e soprattutto siamo riusciti noi bene a interpretare le variazioni di colpi che avevano loro tra i pallonetti e le palle girate verso le zone 1-6. Nonostante ciò comunque loro hanno vinto meritatamente anche il terzo set a 20. L'ultimo set purtroppo ci siamo innervositi, abbiamo voluto fare qualcosa in più perché non bastava ciò che facevamo per volere esagerare un po', ci siamo molto innervositi e abbiamo commesso parecchie stupidaggini sulle ricostruzioni del tipo si va in due su una palla e poi nessuno delle due le prende o si va a interferire su una che è già sulla palla e siamo proprio saltate a livello di testa, abbiamo perso a 15. Cosa ritraiamo di questa partita qua? Beh, innanzitutto abbiamo trovato di là una squadra, a mio avviso, molto bene disposta in campo per quanto riguarda l'aspetto difensivo dove non c'è niente di ben prestabilito ma sono tutte ragazze che hanno una grande capacità di lettura delle situazioni di gioco e sanno ben modulare i vari schemi di difesa. In effetti noi sotto quell'aspetto qui abbiamo avuto molte difficoltà mentre loro sapevano bene dove andare un po' a colpirci e su queste cose qua noi siamo ancora molto indietro e siamo ancora troppo acerbi. Inizialmente abbiamo tenuto bene in ricezione mentre poi verso la fine della partita quindi il quarto sè soprattutto in ricezione ci siamo molto allungati aspettando la palla e subendo molto le loro traiettorie. Questo è anche indice di timore perché quando si teme un po' si tende a scappare e quindi va beh, è andato via così. Sono comunque soddisfatto della prestazione perché reputo la squadra avversaria una squadra veramente ben allenata e forte e nonostante ciò comunque ci sono stati dei momenti in cui noi abbiamo giocato molto bene alla pari e altri momenti che invece come al solito andiamo un po' fuori di testa ma devo dire che poi fondamentalmente ci sta anche rispetto a questa squadra qua. Vediamo se adesso riusciamo a recuperare un po' le energie perché domani chiaramente abbiamo ancora molte partite in giovanile perché giocheremo con la 13 al mattino e presto poi dopo a seguire ci sarà la 16B che giocherà tutto in casa poi alle 15 gioca la 14 alle 17 e 30 gioca la 16 eccellenza e infine alle 20 gioca la 18 eccellenza pertanto le nostre ragazze saranno ancora tutte impegnate e chiaramente faremo fronte ad un turnover per non sovraccaricare alcuni atleti.